ciao ragazze ciao a tutti a tutti nuovo video scusate se mi sono girato un attimo chiuso la finestra allora nuovo video ti auguri buona befana a tutti e buona befana a tutte allora prendo la palette con quale mi sono truccata stamattina perché non so se potete vedere che trucchi ho usato che ombretti ho usato storm ovvero questo storm sto qua e poi ho usato tactico questo bellissimo adoro della palette con lesion che è uguale con lesion deluxe questa bellissima poi come cura che adesso tra poco me la rimette dopo mangiato perché tra poco magno questo della bio provenzali e come terra bronzer ho utilizzato questo qua questa per è bellissima è una terra che mi trovo troppo perché bene questo bronzer vedete molto buono sì io questa luce non so perché ma non mi ci trovo d'accordo vabbè questo comunque vedete sì e niente pennelli ho utilizzato questo che non si trova l'ho messo questo qui ho sfumato con tanti pennelli non sto a dirvi quali comunque questo è il pennello che ho sfumato io per la terra un po sfumata così alla cavolo ma andavo di fretta perché tra poco ospiti non mi sono appena svegliata giuro però avevo attenzione di darmi una risvegliata comunque una bella volta di vita allora maschera hanno messo io non so cosa dirvi più che altro mangiate non pensate troppo a rimorsi dopo aver mangiato nel senso non pensate di aver mangiato abbuffatamente perché tanto poi si va a fare un po di movimento e nulla buona beffana a tutte mangiate quanto volete non vi preoccupate se mangiate troppo e niente quindi io vi saluto vi auguro una buona giornata e buona vita a tutte ciao ah un'altra cosa ci tendiamo a precisare che dopo di questo video ne farò un altro appena il telefono lo rimetto in carica quindi ciao a dopo anzi al prossimo video ciao mettete un bel like se vi è piaciuto questo video commentate iscrivetevi e perché no attivate la campanella ciao 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 ciao